Non siamo genitori sprovveduti, i nostri figli sono abituati a viaggiare con l'abbonamento con il regolare biglietto da vidimare, così i genitori di un minore multato all'interno di un bus di autolinea toscane poco prima della fine dell'anno scolastico. L'abbonamento era scaduto, ci racconta la mamma, così avevamo dato a nostro figlio un biglietto da quattro corse, è stato fermato e controllato all'interno di un bus che fa la linea extraurbana e per sua sorpresa è stato multato. Secondo il racconto del ragazzo, poi ricostruito dai genitori, il biglietto sarebbe stato regolarmente vidimato il giorno del controllo. Negli spazi però destinati alle altre vidimazioni, in uno in particolare, c'era una doppia stampa. Un errore di vidimazione, sostiene la madre, spesso i ragazzi salgono in autobus in fretta, c'è affollamento e la vidimazione avviene altrettanto di fretta. mio figlio ha semplicemente sbagliato lato di vidimazione ma il biglietto è stato usato correttamente per quattro corse. Soprattutto il giorno del controllo nello spazio apposito c'era un'unica stampa, quindi il biglietto è stato usato correttamente. Peraltro, aggiunge la madre, la stampa nel giorno della multa aveva anche un orario sbagliato rispetto a quando mio figlio è salito. La multa è arrivata e i genitori hanno presentato ricorso. Paghiamo ogni anno due abbonamenti, ci raccontano arrabbiati, abbiamo due figli, riteniamo vergognoso questo comportamento. L'azienda sta verificando il ricorso e i documenti allegati, conferma in una nota autolinea toscane, dal verbale stilato dal nostro controllore emergono elementi diversi da quelli sollevati dai genitori. Nel ricorso verificheremo e quanto prima sarà data una risposta alla famiglia.